Stasera in questa chiacchierata con voi di Milan TV vorrei esprimere un concetto molto semplice ma che sento veramente mio in quanto milanista. Io questa sera sono orgoglioso della squadra, orgoglioso dello staff, del nostro tipo di comportamento e di quello che ci stanno dando i tifosi in questo momento perché sinceramente è un'emozione vera ed è sicuramente il succo del nostro lavoro, quello che ci fa stare veramente bene e ci fa vivere con un'emotività a volte instabile ma che ci provoca veramente delle sensazioni piacevolissime. Io credo che quando ci sono stagioni di questo genere l'obiettivo è quello di cercare di fare il meglio possibile quindi avendo questa grande possibilità sinceramente noi dobbiamo puntare molto più in alto. Magari qualcuno, mi ricordo all'inizio dell'anno, non ci deva neanche dare i primi 4 ma questa è una cosa che noi dobbiamo usare come stimolo e abbiamo usato come stimolo. I numeri parlano chiaro. Sappiamo che per essere qua, per essere tra le prime due squadre degli ultimi due anni in quanto punti fatti, dobbiamo mantenere questo spirito di sacrificio e credo che sia la nostra caratteristica migliore. Se siamo qua lo dobbiamo veramente al fatto che ci abbiamo sempre creduto. Anche quando magari non comunicavamo in questa direzione ma all'interno del nostro gruppo ci abbiamo sempre pensato. Ed è giusto così. Ed è giusto così perché non possiamo farlo passare come un obiettivo banale. Milan negli ultimi vent'anni ha vinto due Scudetti. Stiamo parlando del Milan quindi sarebbe un risultato incredibile e quando ti capita l'occasione ci devi provare fino in fondo. E poi se le cose non dovesse andare bene comunque sai di aver fatto il massimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.